RISPENDIATECI! ALMENO LA VIDA! Siete davvero stupidi voi umani. Vedete di sforzare al massimo i vostri cervellini netti. Ora siamo d'accordo. Voi avete mai dato ascolto alle suppliche di un maiale o di un bue? Non capisco perché un rifiuto del genere come te si crede un re. Questo è spesso un fenomeno che avviene nelle gerarchie del mondo umano. Individui privi di intelligenza o talento acquisiscono posizioni di potere grazie a legami di sangue o conoscenze. Ma non ha il minimo senso.